Ciao ragazzi, eccoci ad una nuova video recensione, questa volta parleremo di questo oggetto che è in mano che è un accendino ad arco elettrico, quindi fondamentalmente è un accendino standard tipo i classici accendi gas, solamente invece che funzionare a gas oppure con un piezzo elettrico funziona formando un'onda tra due elettrodi e appunto un arco elettrico ad altissimo voltaggio che serve appunto per accendere qualsiasi cosa. Allora questa è la confezione con cui vi arriva, quindi una confezione piuttosto curata, molto carina, già si vede l'oggetto all'interno e sul reddito ci sono stampate le istruzioni, purtroppo sono solo inglese ma fondamentalmente l'utilizzo è estremamente semplice, quindi nonostante non ci sia l'italiano chiunque può utilizzarlo insomma. Aprendo la confezione eccoci qui davanti all'oggetto, potete vedere anche la confezione è piuttosto curata, c'è una spugna sagomata appunto con la forma dell'oggetto e qui nella parte alta abbiamo un piccolo scatolino che contiene il cavo di ricarica in quanto questo accendi gas ha all'interno una batteria a litio e quindi va caricato fondamentalmente come un cellulare. Anche la porta di ricarica eccola qui, è appunto un mini cavetto che è da un lato alla USB classica mentre all'altro una micro USB, quindi la stessa porta utilizzata dalla maggior parte dei cellulari Android. Qui sul laterale abbiamo appunto la porta per poterlo connettere in ricarica e questa parte bassa contiene un led che si accende di verde durante la ricarica per spegnersi quando la carica è completamente eseguita. Allora, per quanto riguarda l'oggetto come potete vedere è molto ben fatto, ben realizzato, tutto il corpo esterno, quindi questa parte arancio nonché queste parti color argento sono in metallo. C'è anche l'archetto per appenderlo e c'è anche la protezione per evitare appunto di mettere le mani negli elettrodi o di accendere proprio sbaglio. Infatti vedete questo elemento qui che sto indicando adesso è una specie di interruttura slide che serve per estrarre i due elettrodi. Andandolo a farlo scorrere infatti, vedete, escono i due dentini. Ripeto l'operazione, vedete, si chiude e si apre e nel momento in cui vado a premere questo tastino arancio al centro, vado a far attivare l'arco elettrico. Vedete, adesso vi faccio vedere al volo arco elettrico, sentite anche un leggero sibilo che ha appunto il rumore prodotto dagli elettrodi. Questo funziona fondamentalmente con un circuito interno che è in grado di passare dai 3,7V della batteria interna, quindi il voltaggio standard di una cella a litio, viene ad essere portato ad altissimo voltaggio, quindi oltre 7000V se ben ricordo e questo consente quindi di creare un arco elettrico nell'aria sfruttando appunto le particelle di aria tra i due elettrodi e quindi si viene a formare quella specie di scossa elettrica che assomiglia fondamentalmente a un fulmine. L'utilità di questo tipo di accendini non è, cioè oltre ad avere la praticità del fatto che non bisogna caricarlo continuamente con il gas oppure non si rovina comunque con il tempo, c'è il vantaggio che praticamente permette di accendere anche in presenza di vento, quindi è molto comodo anche per accendere magari un fuoco all'esterno, un barbecue e quant'altro, perché appunto non è il problema della fiamma che può spegnersi con il vento. Vado a farvi vedere al volo come funziona, l'unico limite tra virgolette è il fatto che la fiamma, o meglio l'arco elettrico viene prodotto all'interno dei due elettrodi, quindi per poter accendere qualcosa deve poter entrare all'interno dell'arco. Comunque per accendere la stragrande maggioranza degli oggetti la cucina è ovviamente molto comodo. Vi faccio vedere al volo come riesce ad accendere la carta, vedete come un accendino normale riesce a farla prendere a fuoco senza problemi, adesso spendiamo al volo, ecco qui. Vedete la fiamma è prodotta direttamente dalla carta che brucia, non dall'accendino, ed è molto carino il fatto che è molto preciso, quindi nel caso in cui adesso vado ad inserire proprio il foglio e accendere un secondo l'elettrodo, vedete crea un mini foro, eccolo qui all'interno della carta, proprio dove passa l'arco elettrico, quindi assolutamente molto preciso da questo punto di vista. Ecco qui, vedete, crea dei microforellini proprio dove passa l'arco elettrico. Ovviamente è possibile utilizzarlo anche per accendere qualsiasi tipo di oggetto, ad esempio qui ho una candelina a portata di mano, lo andiamo ad accendere insieme per vedere come funziona, e vedete nell'arco di pochissimo riesce ad accendere senza problemi la candelina. Per quanto riguarda la batteria dura abbastanza e tra l'altro si ricarica molto velocemente, infatti basta andare a collegare qui il cavetto, vi faccio vedere al volo, eccolo qui lo sto mettendo al contrario, vado ad innestare il cavetto e dopodiché basta prendere un caricatore da cellulare che non è in dotazione per poter mettere in ricarica l'accendino, quindi prendo un caricatore da muro, collego la presa e vado a collegarlo alla corrente. Ecco fatto. Vedete che si accende un led verde che indica appunto che è in carica l'accendino. Quando questa luce si va a spegnere vuol dire che la batteria all'interno è completamente piena, quindi è pronto all'utilizzo. È molto simpatico il fatto che durante la ricarica per evitare problemi non è possibile erogare l'arco elettrico, quindi è molto sicuro da questo punto di vista e ho letto sulle istruzioni che comunque ha molti controlli quindi di scarica, di scarica eccetera per evitare appunto che possa creare problemi durante la carica, quindi un dispositivo ben pensato dotato anche di una serie di protezioni che possono garantire una certa sicurezza insomma. Bene, lo vado a scollegare anche perché il mio è praticamente carico e niente, ripeto l'oggetto è molto bello, è anche carina la confezione quindi è perfetto per un regalo ed è un oggetto sicuramente molto particolare. È disponibile in vari colori e lo stesso venditore produce anche gli accendini da sigaretta, quindi è anche possibile utilizzare la stessa tecnologia su degli accendini perfumatori che creano appunto l'arco elettrico e sono perfetti perché possono essere utilizzati appunto anche all'aria aperta senza problemi. Penso di avervi spiegato più o meno come funziona questo oggetto e spero che la recensione vi sia piaciuta. Come al solito nel caso in cui abbiate dubbi o curiosità basta che mi scriviate sotto questo video. Grazie alla prossima, un saluto da Moriano.